All'andata finì 3-0 a Dorvieto, in una partita nella quale i Rosso-Blu dettero l'impressione di poter puntare a zone più alte di classifica, magari ai play-off. Da quel momento sono passati mesi e i Rosso-Blu tornano a giocare con gli Umbri per la salvezza al Brilliperi. Il mister vuole dimenticare la vittoria contro il Sandonato e puntare ai tre punti che potrebbero valere la salvezza diretta. Ora siamo altamente concentrati sul prossimo impegno, è bene dimenticare alla svelta quello che è stato. Ci si presenta una partita che ha delle difficoltà sicuramente di alto livello. Forse non tutti sono a conoscenza, ma l'orvietana nelle ultime 10 partite, tolto domenica, aveva fatto 18 punti. Nelle ultime 6 trasferte ha fatto 12 punti con tre vittorie e tre pareggi. Credo che già subendo solo tre gol e questo già credo che sia indicativo della difficoltà del momento. Sicuramente l'orvietana ad oggi è una delle squadre più in condizione del girone e per cui sarà un impegno sicuramente da prendere con tutte le dovute attenzioni. Nonostante gli Aquilotti si attesterebbero a 39 punti, però secondo Beoni domenica non sarà il match point per la salvezza. No, questo no, perché ancora ci sono altri punti in palio, perché ci sono scontri diretti, perché ancora purtroppo non è così. Chiaramente sarebbe un passo importante, ma sicuramente non definitivo. Intanto probabile la riconferma del 4-3-3, modulo ormai consolidato in queste ultime giornate. Noi stiamo sicuramente in questo momento adoperando di più questo tipo di gioco, questo di metodo, ma non è un assoluto. Valuteremo per noi, in relazione a noi e in relazione anche agli avversari come sempre.